Un altro monumento preso di mira dai vandali ad Arezzo. Al Pionta, lungo il viale dei ricercatori, il monumento alla memoria dei tetti rossi è stato imbrattato con scritte e disegni che ne sbeffeggiano il significato in una maniera davvero orribile. Ad inizio settimana era toccato alla targa che campeggia sopra la rapide al cimitero degli ebrei, dove il sindaco Ghinelli ha deposto una corona di alloro nel giorno della memoria. Nell'arco di pochi giorni un altro scempio, un altro atto vandalico al cuore di Arezzo in uno dei luoghi più simbolici della città. Un tempo destinato a manicomio psichiatrico oggi ospita il campus universitario. La statua di marmo bianco collocata all'ingresso dell'università ricorda infatti le vittime dei manicomi e la loro memoria è stata umiliata con scritte e vernici. Il volto è stato truccato sul corpo femminile, sono stati dipinti il seno e l'organo genitale femminile. Le opere d'arte dei simboli di Arezzo sembrano essere diventati il bersaglio preferito dei vandali. Nel caso del cimitero degli ebrei il comune aveva sporto denuncia contro ignoti.